crimini efferrati commessi per passione per denaro per follia donne innocenti che sopraffatte dalla violenza diventano vittime dei più brutali omicidi ma anche donne le cui mani si macchiano di sangue diventano feroci assassine sono loro le protagoniste di donne vittime e carnici un uomo e una donna si conoscono iniziano a frequentarsi si amano presto iniziano le comprensioni ma questo non impedirà alla coppia di sposarsi ma il loro matrimonio finirà presto nel sangue è il caso valentino a donne vittime e carnici